Siracusa passa all'Ars, emendamento su pensioni integrative per ex lavoratori asi, sanata un'ingiustizia. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento che dispone dell'erogazione delle pensioni integrative ai lavoratori ex asi. Dall'inizio del mandato parlamentare abbiamo approvato a sanare un'ingiustizia ai danni dei lavoratori ex asi che fino ad ora avevano trovato solo nella soluzione legale l'unica possibilità di vedersi riconosciuto quanto gli aspettava. Una paralisi che si è tradotta in costi per i contribuenti siciliani. La regione infatti soccombente nei giudizi passati è stata costretta a pagare sulla scorta delle indicazioni dei giudici che di volta in volta hanno accolto il ricorso degli ex lavoratori asi. Secondo quanto prevede la norma l'IRSAP erogherà il trattamento pensionistico integrativo dovuto al personale in pensione dei consorzi asi in liquidazione ai relativi trattamenti di reversibilità spettanti nella misura massiva di tre volte il trattamento minimo IMS vigente per ciascuna delle annualità da considerare. Prima della fine di questo mandato parlamentare siamo riusciti a stanziare le risorse per il riconoscimento della pensione integrativa in modo equilibrato. Questo risultato è il frutto di un impegno politico che ha visto me e altri due deputati regionali Nello Di Pasquale e Angela Foti spendersi fin dall'inizio, conclude l'onorevole Giovanni Cafeo. Grazie a tutti.